Dai a manetta, dai questo cazzo di gas, dai 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 cazzo muoviti a fare la curva, è uscito in DLC, fammi vedere i veicoli che ho appena acquistato, fammi vedere quanto sono fighi, voglio vederli, voglio acquistarli, voglio modificarli, voglio usarli, voglio sbatterli in pace a tutti i poveri di merda di Los Santos Ragazzi, che veicoli? Che cosa? Oh mio Dio, ma che schifezza è? Ok ragazzi, oltre questa intro del cazzo che mi è venuta così spontanea, voglio parlare di questo nuovo DLC che è uscito in questi giorni La mia opinione voglio darvela e voglio sapere la vostra soprattutto opinione, voglio sapere se c'è qualcun altro che la pensa come me Ti ricordo di iscriverti se non sei ancora iscritto e di lasciare un bellissimo like a questo video per farmi vedere il tuo supporto, quindi arriviamo a 1000 like, mi raccomando ragazzi Il DLC è uscito ieri presumo di mattina perché io era a scuola quindi non lo so, la Rockstar però, cosa strana, ha caricato il DLC senza nemmeno annunciarlo, senza nemmeno farci la pubblicità E questa è davvero una cosa stranissima, e beh, per quale motivo è strana? Perché evidentemente la Rockstar nemmeno lei ci dà peso a questo DLC evidentemente Nemmeno gli dà più di tanto importanza a sto punto, effettivamente è da capire, però cara Rockstar, ok che i DLC sono gratuiti e per carità di Dio Sono belli, sono belli, molti DLC sono belli, però secondo me in questo DLC hai toppato leggermente Non è che cara Rockstar ti stanno mancando le idee, ci sono alcuni veicoli molto fighi e molto brutti Beh, per parlare di questo DLC, paragono questo DLC a quest'auto, che è la Taipan, davanti una bomba, davanti è bellissima quest'auto Ma andiamo leggermente dietro, al posteriore, fa schifo, fa schifo, a me personalmente quest'auto fa cagare Ed è pure lenta, quindi che cazzo di... fa schifo E' proprio così è questo DLC, sembra apparentemente molto bello, ma non appena lo scopri, girandola visuale, verso la parte posteriore del DLC per dire Verso la parte posteriore dell'auto, scopri che fa schifo veramente tanto Questo DLC, l'unica cosa buona sono le varie auto che stanno per uscire, come appunto la Toyota Supra e altre varie auto nascoste Che comunque usciranno tipo una volta a settimana, tipo un'auto o due auto a settimana Tra l'altro, se vi siete persi il video dell'E14, dove appunto mostro tutte le auto nascoste, andatevelo a vedere dopo ovviamente aver sentito la mia opinione su questo DLC Ragazzi, fa veramente cagare! Allora, innanzitutto il veicolo più brutto è quello che vi ho detto, la Taipan Vabbè, ci sta qualche veicolo non riuscito, o comunque è una cosa soggettiva Però è stato un esempio che si può benissimamente applicare su qualsiasi auto Magari, che so, a te in parte piace la kuruma blindata, però da dietro non ti piace Per esempio, è stato un esempio, ora non accanitevi su quella cazzata, ma bensì capite il discorso Che cazzo di senso ha caricare delle gare dove bisogna fare dei giri? Giri su giri Ho capito che tu volevi fare, volevi simulare le corse che c'erano su GTA San Andreas O meglio, la corsa della Maze Bank Arena Se vi ricordate c'era la corsa dove appunto giravi, giravi e giravi E tra l'altro in America vanno alla grande queste gare, insomma, dove ci sono varie macchine da racing Dove girano, 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 girano Abbiamo capito, una pistola dove girate e basta Però nella vita reale ci può stare in un certo senso Ma in un gioco quanto cazzo ti rompi le palle a girare, a fare lo stesso percorso? L'unica cosa buona che ti può far divertire è tra l'altro bestemmiare Ma io essendo una persona sadica, mi piace incazzarmi per divertirmi Alcune volte incazzandomi troppo, lascio tutto e via Comunque voglio dire, l'unica cosa buona in quelle gare è che magari una persona ti butta fuori Quello è l'unico divertimento che potete trovare Perché girare, girare e girare e girare non vi divertite per un cazzo Ma poi che differenza c'è tra un utente che crea una gara del genere e la Rockstar? Non cambia niente, cioè non c'è nulla di speciale, non c'è nulla di nuovo Non è come le gare multiveicolo che effettivamente un utente normale non poteva crearla tramite il creator già esistente Mentre ora, quelle gare che ha caricato la Rockstar sono semplicemente gare che poteva fare un utente Però non è stata mai fatta, o meglio non è andata mai di modo una cosa del genere Per fortuna perché naturalmente fa cagare al cazzo Chi ci giocherebbe una gara dove giri, giri e giri? La cosa buona è che effettivamente stanno facendo uscire delle auto, diciamo da racing Proprio per quel tipo di gare E una di queste auto è questa qui che vi sto mostrando ora, di cui non ricordo il nome Quindi, come ho detto all'inizio, evidentemente neanche la Rockstar ci dà più di tanto peso a questo DLC Perché non gli ha fatto nemmeno la pubblicità? Why? Perché? Io, azienda, vorrei che questo DLC sia apprezzato da molti e sia scaricato da più persone possibili Se non ci fai la pubblicità, vuol dire che neanche tu ci credi fino in fondo Ragazzi, l'hashtag di questo video è hashtag opinione Beh, perché appunto non è detto che il DLC faccia schifo C'è chi magari effettivamente piace, quindi è ovviamente da rispettare Anche perché non è una guerra e non è a chi difende o a chi attacca il DLC Nulla di che, è semplicemente un'opinione personale Quindi hashtag opinione e commenta con la tua opinione personale Facendomi sapere che cosa ne pensi appunto del DLC, ovviamente E io ti lascerò un bellissimo cuoricino Continuiamo Naturalmente, ovviamente, bisogna apprezzare quello che fa la Rockstar Perché sono comunque contenuti gratuiti Ma ricordiamolo che loro lo fanno non per farvelo gratuito a voi Ma per il fatto delle shark card Ma comunque, era giusto per ricordarlo Secondo me, questo DLC è un DLC flop Cioè, non interessa più di tanto a molte persone E è quello che è, insomma È fine a se stesso Peccato, peccato Perché la Rockstar difficilmente fallisce E difficilmente fa delle cose brutte Diciamo che questo DLC non è dire tutto brutto, per carità Comunque ci sono nuove auto Però, ovviamente, la modalità, insomma Si apprezza l'idea Ma fa schifo Però io non vorrei che la Rockstar sia entrata in quest'ottica Che ormai bisogna fare DLC così Giusto per buttarla lì Cioè, non vorrei che la Rockstar entri Nella mentalità Nel modo di vedere Di buttare qualche DLC lì Ogni 2-3 mesi Giusto per accontentare un po' i giocatori Perché non si hanno più idee Beh, perché naturalmente Non è che puoi avere idee su idee Cioè, oddio Sicuramente loro avranno tantissime persone Che pensano a tante puttanate Molto divertenti Con cui cazzeggiare Però dopo la moto che vola Dopo la DeLorean Dopo che cacchio ne so Il bunker, il sottomarino Forse qualcosa te la sei giocata Un po' troppo velocemente Ecco, solo questo Speriamo che la Lost Car Ovvero Rockstar Si smentisca Cioè, nel senso Faccio vedere che effettivamente Non ha perso il ritmo Non ha perso la mano Nel fare DLC davvero molto belli Può capitare di sbagliare a chiunque Poi vabbè, ovviamente Il fatto che DLC sia brutto È una cosa soggettiva Quindi è una cosa mia personale Non per forza È oggettivo C'è gente che magari A cui può piacere Infatti fammi sapere Qui sotto nei commenti Se te piace Oppure no Però siate realisti Comunque Non dite che la Rockstar Fa cazzate Perché comunque Già il fatto che sia gratuito È da apprezzare Ovviamente Ragazzi Spero che questo video Vi sia interessato Vi sia piaciuto Vi sia piaciuto Il sapere la mia opinione personale Soprattutto fatemi sapere La vostra opinione personale E lasciate un bellissimo like A questo video Arriviamo a mille like Commentate con questo hashtag Che ve l'ho lasciato Pochissimo tempo fa E iscriviti se non sei ancora iscritto Beh, detto questo Noi ci possiamo benissimo vedere Al prossimo video E ciao ciao